e fare perché non hanno mica se ecco ora va bene sulla ragazza dei piccoli problemi con i microfoni perché come ben sapete streamlabs sono schifo e se si fanno più live con lo stesso streamlabs è diventa scema allora io adesso un altro problema però marco che è praticamente non mi fa aprire la finestra di dark souls ciao mikhiro ciao mikhiro e mikhiro è una sorpresa ma se tu non ascolti noi parlate di cose vostre parlate di cacciatrice scusami marco ora piazzi tu il simbolo piazzo io allora intanto mentre voi non ci guardavate ne abbiamo fatto fuori il demone il carro del boia senza che nessuno ci guardasse con dato l'avevamo già fatto in live esatto e poi siamo andati alla valle del raccolto quindi nella valle quindi dato io ti metto il simbolo allora intanto vado a parlare con la signorina bella bellina si vede intanto in live si è un viandante io sono chloe n e questa qui è la figlia del fabbero marco dove me ne hai messo il simbolo cazzo dada che schifo sti cazzi ciao allo ciao allone ciao come va un breggio a marco non lo saluto solo perché ho riso una battuta di colorato non ti piace il simbolo accanto alla signorina mi ha preso marco e non ti parlo mai più ciao 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 c'era un po dato se guardi in culo inventario perché il veleno continua a salire marco perché devi rotolare intanto miei non smetti di salire marco abbiamo fatto che la chissi marco dato c'è i volessi avere dei fiori di tipo grappoli veri ciao davvero tanto potete vedere come dato sia cazzo fiore verde non ho più non che vedete di tipo dei grappoli verdi ma se non mi ricordo il nome e ne ho tue cinghè intanto a faccia di guarda che bel posto comunque comunque le animazioni lo sto guardando marco io vedo nel fondo tutto blu riconunque allora prende la bottiglia ora questo che sta facendo come gli indiani ascoltano ho sentito arrivare due qua ci sono delle cose da prendere ma a me non interessano marco neanche la guarda stringo ancora da dove si tirano le maledizioni male detto c'è un maledetto cieco se per te la mettere a terremota perciera ma allora grazie non so perché ma grazie o no io Salvo, salvo, senza saperne leggere e scrivere, salvo E qua ci sta un oggetto Ma dovete sapere che Core live di ieri sera Io mi sono finito totalmente la gola Ieri sera dopo la live Non parlavo, ecco Ehm Proprio non riuscivo a parlare Ciao signorina Ok E io questa notte ho recuperato un po' di voce E la sto rifinendo Marco, guidami Daro tu resta lì Ma che vuol dire tu resta lì No, ci stava una cosa Una leva Dimmene Ma penso che l'avessi No Marco Attacco in salto Marco non ci sono Attacco in salto Lo spadano ragazzo Se l'ha appena preso Prima stava No, due live fa erano morto Due live fa Eh Marco Dato, qua a destra ci sta un falocchio Vai Marco Grazie per l'informazione Adesso andrò subito a riposarmi Fatto Marco Non mi sono riposato I know Le lucertole Che si è avuto da lì sotto Marco sono caduto nel buco Marco Ma ho dato perché l'hai fatto Marco Marco No, ho dato Buona fortuna A me non vado di scendere là sotto Marco cosa fai? Dove l'uscita? Marco sono Sono verenoso Marco Marco non vedo una sega Si è perca puntata da qua C'è un cazzo di buco verde Perché ci sei entrato Marco Che cazzo sta Vabbè aspetta che muoio Marco ci sono dei cosi grossi Oh cielo Ma è pure la bini Ok è morto Io me ne torno nel mio mondo È finita È finita Sì Guarda mi butto anche lì sotto Adesso Non ci sei riuscito Bambini Non bevete Dado Stai bevendo in live Scusami Hai fatto bene Dado aspettami lì va Marco io ti aspetto anche Ma se non sono umano Cosa ti aspetto Non hai un umanità Marco no Vabbè aspettami lì comunque Servirebbe Simo in questo momento Simo 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 è il nostro dispensare umanità Marco devi fare il richiamo di Simo Come siamo simpatici Eh Come siamo simpatici Mamma mia Marco Mi viene voglia di togliermi la vita Quindi lo cazzo io Sì però devi aspettare che arrivi da sud Dove salvi prima Puttana tua madre Marco io queste cose non le voglio mai più sentire Sono stato chiaro E basta E basta Scusami cortesemente Marco io non sto vedendo quello che stai vedendo tu Però commenterò come fai tu Cioè Airo dice Mi fa ridere che la testa è data sia enorme E che la idea di Marco sia piccolo Marco è cazzo Eh perché Come è questo Scusami Che penso Nel Cubekka ha un grave problemi che ho perso Sì No perché Simo è Diciamo che è una connessione Un po' paleolitica No diciamo Problematica dai Problematica Puttana tua madre Ogni tanto quando parla Mentre parla si sente Proprio questo verso qua Che è un citofono appunto Che la sconnessione che cade Quindi lui è un citofono Eh? Porca sera un citofono quello Cosa hai fatto Marco? Guarda in live Ah ma andate in orve Perché lui è vicino alla web Io no Ciao Matteo Ciao Matteo Ah ieri abbiamo avuto le ride Che cazzo Adesso c'ho una sola umanità Cazzo io Ah ieri mi sa la notturna di Maso Eh sì Ciacetto dai E dai lo devo tornare indietro Sì ma che cazzo di botta Che mi ha dato quella Cercetto Non sei il mio cecetto Altro io non ho Che poi se poi adesso mi è andata a chiedere Perché cazzo non avesse aperto Il cancello prima Non vi devo prendere una risposta Perché non ho veramente senza una cosa che ho fatto Ma le amati dei coglioni Ho fatto l'errore Ho rotolato contro i vasi che ci sono al falò Mi sono avvelenato Oh La mia stamina per favore Scusa Ragazzi come in ogni live Mi dissocio da quello che dice Pensa e fa il buon Marco E a nome di tutti i Unicorgi vi chiedo scusa Marco dove sei? Marco io apprezzo E vicecetto E vicecetto E vicecetto Beh vicecetto Dato ho messo il simbolo ma non mi so sbagliato perché devi metterlo dentro Io non ho messo il simbolo Marco io l'ho già messo No sei stato davvero bravo a metterlo allora E vicecetto E vicecetto E vicecetto E vicecetto E' un grosso perderlo Non lo deve sopportare E guarda Cioè siamo affibbiati noi Esatto Perché almeno sai no Ci riconoscono Eh lavoro social Ci danno 104 Poi Comodo Marco Andiamo Vamo Sai dato che se Se io ci resto E' la fine per tutti Marco speriamo Perché non arriva più umanità Marco cosa cazzo ho visto Una presa Marco io non le insegno più quelle cose Ma vaffanculo Ma quale me Ma è Marco È finita nel muro Dato Di qua Occhio Marco qui ce n'è uno No Dato era giusto Dato era quello che ho ucciso io Marco ti ammazzo Dato cadi di sotto Marco va bene No Dato Andiamo Marco sti cosi sono grossi Si Come il mio camion Wow Molto bene Dato per favore Attendo Marco questo cosa è shrek Marco siamo fortissimi Ho messo No non volevo Ma questo è coglione ragazzi E io Guardate il camera Picco del racqueo Wow Allora io qua mi perdo Non sempre di più Marco io Non l'ho mai giocato Quindi ancora Persia Persia? Si Prince Ok Occhio alla signorina nuda Dato Marco Marco dove sono? Marco Se non posso ci sono dei vermi Mi sa Dei fumi Si E cosa ci devo Marco Dato esce e sali Fortesemente Ma stai ferma signorina Ok Non vedevo la telecamera Non vedevo le scappe Ma scusate Ignorate il piatto L'importante e bello Del mondo Dice Michiro Qual era? Mentre Ollo Di Dice Fate attenzione A piromanti E così Vi orco Sono No Sono Venuncia E così Viola Guarda Difendimi un attimo Mentre mi sveleno Ma svelenami Il pisello Marco Ah ma era ancora vivo Sto qua Provo Vai Dato mi sa che forse Dobbiamo tipo andarcene Velocemente Via Dato No No Non è che fortesemente Qualcuno C'ha delle umanità Marco 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 Quando messaggio a Simo Ragazzi mi ricordo Dopo che erano due Le frecce Non tre Scusate Un messaggio a Simo Dov'è Dov'è Io vado un attimo indietro Perché forse c'è stato qualcuno Sì a chi è vende umanità ragazzi Mi sta cadendo il telefono Simo Noi siamo in live Ci servono umanità Non ne abbiamo Per favore Simo Comincio a lasciare Dei simboli a cazzo in giro Fin quando qualcuno non mi evoca E poi E poi mi evoca e prendo l'umanità Ragazzi por favor qualcuno mi dichi Ragazzi Ragazzi Che imbarazzo Che poi lo sapevo pure che era una trappola Perché cazzo ci sono andato Calquar ti prego Oh Simo ha ascoltato il messaggio Calquar sei inutile Gatto di merda Devo solamente farmi stare inutile Signore n parola Allora Intanto Vorrei ricordarvi che c'è da ieri sera una petizione Sì è vero Per una cosa molto importante Che non far giocare più Luca a jungler Per non far giocare più Luca a jungler su lol Mi raccomando Firmate la numerosa È importante Allora Simo ha detto Eh ma io non ho internet Che bella è la vita vero Ragazzi Ragazzi la live finisce qui Questo è un problema È un problema Ragazzi qualcuno può studiare Andare un attimo a controllare Chi cazzo è che vende delle omagie Che imbarazzo Marco Se volete uccidendo le tre guardiane del fuoco iniziale Ve ne danno undici Undici? Vanno simutati Marco io non so di cosa sto parlando Quindi ti aspetterò qua Ma non voglio parlare con Shannalot Shannalot Te le vedi dal cazzo Che santo Esci Eh amici Io mi sento molto 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 In imbarazzo Sti cazzi Cioè faremo una ragione Però guardate che bella maglietta che ho Eh? Almeno quello Guarda No no amici Guardate la mia Marco dimmi se si vede Sei troppo in alto Andiamoci Questo qui dovrebbe essere una torcia Marco si vede? Eh Boh Marco vaffanculo È una maglietta di ocare in all time Comunque E Marco Vecchie di merda Sono resistentissime ste vecchie Ho questo che è incazzata nera Oh 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 Col mestolo Eh Marco te lo dì io il mestolo Vecchie di merda Scusate Non voleva è stato No no Marco Comunque sì vi ricordo E questa qui È una pomeridiana random È che tutte le sere Lo stream A dalle 22 e 23 Tutte Tutte le sere Tutte Anche sabato domenica Lunedì Addirittura Dattemi la vostra pensione Marco io Tendi minecraft O carriera of time Xbox version No PlayStation 3 version Eh Un po' Vecchie di merda Adesso mi ruba l'eredità Marco Con chi ce l'hai Mi chiedo se è un bugiardo Me ne hanno date nove Butta le Coglione Quindi piazzo io il simbolo Marco Dimmi Dimmi Tieni il simbolo Ricordi Non Come Mi chiamo Dimmi Mi chiamo Mami Ma Ma Mi chiamo Marco Cercello ha appena giustiziato delle anziane sedute in casa a lavoro Io concordo con Airo, Marco, smettilo Marco, Marco, let's go Possiamo andare avanti Lasciami dell'umanità per favore Marco ti avveleno Marco ti avveleno Ma sei un pezzo di merda Ma prendo pure da solo nel dubbio Che cazzo Ma dove ti caccio Marco ho acceso una forza No, dove la passa? Marco, come faccio a disavvelenarmi? Dato, sei un pezzo di merda, sei? Questo è quello che ti merdi, Ciccio? Sì, non lascia, quindi Inventario Te ne lascio quattro Marco non li ho buttare Grazie Andiamo Ma che andiamo? Ma ti rivede coglioni Ci riposiamo al pallone e ripartiamo Marco, io sono molto deluso a questo tuo comportamento Vattene via Vaffanculo Ma non ti ha detto ciò, non lo so Marco, ho capito altro, mi era preso un colpo Cosa hai ricadito? Niente, allora Ti riposiamo al pallone e metti il simbolo Sì Imbecille di merda Ho messo il simbolo, Marco Sappi che lo rifarò poi Vado io buco No, non farlo, Marco Poi non so dove andare Amici, vi ricordo, tra l'altro Questa che è la mia prima run su qualsiasi Dark Souls Marco, ti riporto alle tuorità competenti Dobbiamo farlo tutti, mi raccomando Io c'è vero per farvi sapere che Dado, che non ha mai giocato Io voglio sapere Chi è che te l'ha regalato, il tuo fratello? No, mio amico Quello che sta in Bulgaria Sei davvero una testa di cazzo un amico Per far giocare la prima volta Per approcciare una persona a un Soul Strides Con la Skolar Ciao signora Cristina Dado non mi hai lasciato nessun signore Dado è un uomo ragazzi Ah, scusate, avete ragione pure voi Guardate Piano piano Oh, eccoci qua Ora c'è il mio Ciao ragazzi Faccia Dado Facciamo vedere il pop filter, Dado Facciamo vedere il pop filter rosa Marco, va bene Questo è il tuo filter rosa, Marco Esatto Guardate che cosa si sente Ecco Datemi un secondino e torno subito Sì Allora, Dado deve chiamare La pizzeria Per prendere le pizze No Marco Devo chiamarla dopo la pizze Un attimo Sì La chiamo dopo la pizzeria Marco Andiamo Marco vuoi vedere cosa Perché è venuta in camera mia A mia madre Scusami, Ollo Hai ragione Mi hai dato i suoli per la pizza Allora No, dall'altra parte Ah, Ollo Dei sapere Quando vi faccio quel rumore Con il microfono Marco ha delle reazioni Diciamo un po' Un po' strane Dado non cadere Marco Ero a sette metri da un buco Eh, Dado Ciao Simone Eh no Ormai Scialmai Scialmai Ormai 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 L'abbiamo Scialmai Non mi ricordo Dove se andate Comunque sì Avete visto Che Manco Ma no È la seconda volta Che ci caschi Avete visto Che belli I nostri pop filter Ragazzi Marco Le voleva prendere nero Però io ho detto No Rosa E quindi Era preso Rosa Quanto lo stagli Bravissimo Dado Hai visto Siamo ringrazio Non ti ho bannato Ho voluto Una Sì Nessuno ha detto Una Bestorco Ma chi è? È la signorina Lassù Valla un attimo A prendere Dov'era Signorco Arrivò No Dado Scusate Marco Mi sono caduto Mi sei caduto Prima Marco Sei fortissimo Grazie Marco C'è un fungo Ma che paura Mi avvertite Quando sono tipo Le sei e un quarto E chiamo la pizzeria Va bene Marco Dov'è che sta il patto Aspetta Aspetta Dado Andiamo a prendere il patto Marco Dado Come sei morto Mi chiedo Dov'è che sta il patto Amici cari eh Perché continua a giocare A questo gioco Mi chiedo Granzo Ma come si arriva in quella zona Dal boss fight Contro il Contro gli scheletroni Fini Là ci sta a sinistra Una Dentro la boss fight A sinistra Ci sta Una porta Centri Marco Mono male Evviva Let's go Ham Do 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 Let's go Ham Do 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 Let's go Ham Do 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 Let's go Do 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 Di Marco Cian Marco grazie del mio voto marco perché non parli più no io ho giocato di monzol se il primo unico boss che ho fatto era un globo nero ma io io so che io di monzol sono una giocata e quanto vorrei recuperarlo però non mi vado a farlo su play 3 quindi voglio che esca fuori la cosa marco marco dove sei io santo no ho lonti che ci sei da poco di sapere che dato al senso dell'orientamento di un pesce rosso in una boccia stai zitto non è vero come io ogni volta qua mi gira sinistro non hai preso un piano ma non hai preso danni ma come è che sono fortissimo da let's go ah la falange è zoro esattamente è proprio zoro sì sì sono zoro evidente che i pesci rosso hanno talmente tanta paga memoria che il tempo di fare un giro della boccetta è già che si sono scordi tutto quello che era successo attorno a loro marco patti loro tutta la vita non sorprarca demiurge che cosa fa ma che fa ma che cazzo ragazzi sta ragazzi mi prego io ragazzi mi prego che fa questa cosa oddio 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 oh no è senza testa è una cosa spettacolare io non ho capito ma era e non penso fosse un non ho mai visto qua un npc quindi era un player quindi era pazzo stava avendo un attacco epilettico per favore vorresti levarti ha dato allontanati tu io faccio un attimo una cosa c'è l'inventario vedi il segnalino bravi bravo ciao bello comunque sia hollo visto che tu ci segui da poco anche questa cosa ti volevo dire una torcia quindi abbiamo perso tutta l'umanità per una torcia che noi ogni mese sul nostro bellissimo canale youtube che il buon Airu o chi per lui spammerà adesso abbiamo mensilmente un best off delle clip di twitch e quando siamo andati a Milano Marco abbiamo fatto anche un vlogone ehi quindi quando non sai che fare mi raccomando dagli un'occhiata dagli un'occhiata soprattutto perchè i best off sono davvero carini bisogna ringraziare dato che è molto bravo a farli dato se moriamo contro il job of the hat io e soprattutto il blog di Milano ci ha messo il totale di circa 20 ore a farlo perchè ha perso i dati perchè ha perso l'harpisco non esisteva più l'harpisco sarà fritto grazie hollo mamma mia e tra l'altro li ricarichiamo anche le paste grazie hollo esatto le paste quelle ricaricabili quelle in cui non ci sono figuracce figuranti Marco tutte ah vieni qua giappone lo sento io ma era un boss questo si pensa che si può one shotare con delle pinoccoli primonze giuste infatti sabaco l'ha fatto e ci è rimasto malissimo quando fece da blind allora vado avanti guarda Simo Simo io non ti evoco Simo anche ora che devo ancora arrivare qui dallo tutto e non puoi andare a fare incollini mi riposo all'oltre falon e poi vengo a fare già valore sono divisi con playlist incredibili e e se vedi bene c'è anche il vlogone di Milano dura circa un'ora e dieci ma è oro è oro colato è oro colato no non piangere Simo andate sono le 6 e 02 Marco eh fra dieci minuti chiamo la pizzeria sono le 6 e 02 eh 02 io intendo da una contuma ahahah ahahah no ecco io non ci dicevo no io tra la io tra la io tra la ragazzi vi faccio vedere una foto non so quanto si possa vedere per un attimo per una cosa aiuto su Marco le foto vi fai vedere ok sì no la chiamo in live ma non mi muto dai no ma mi muto allora faccio vedere una cosa trasforma adatta allo schermo no vabbè non mi muto a ero così in pari Marco cosa stai facendo quello mi ha fatto da piccolo c'è da piccola data però ti ho avuto 15 16 anni ma non si è tutto bene eh Marco io ti aspetto dove ah no hai pianzato te il simbolo ok scusami ehm tocca evocazione evoca ok Marco sei grandissimo eh lo so grazie no Marco non è vero amici io 23 io e Marco ci vediamo siiii andiamo a giapponese amici cosa sto guardando Michiro stai guardando una delle persone più belle che potresti mai vedere no mi dissocio a queste affermazioni completamente ma perchè non vai a prendere l'altra Marco ma un ballino di cazzo tua te li fai becisi Marco perchè sei giallo è perchè ho il patto del sole perchè io non ce l'ho del gran soleee eeeh e io non ce l'ho grazie Marco cosa fa niente sei giallo mamma che bello siiii eh ma il patto di soler ti ricordo capito ragazza poi andiamo a darsouls 3 non vedrò perchè cominciamo a darsouls 3 eh si ed è di gran lungo il mio darsouls preferito vai stringi patto si non puoi stringere un patto in presenza di fantasmi ah vabbè no marco io sono molto deluso da te dovete sapere che darsouls 3 è quello che ho finito più volte l'ho finito a misare mi pare 9 volte perchè ho fatto 7 volte con la blind 8 volte proprio non avevi gli occhi no cioè ho fatto la blind più i vari G plus poi l'ho fatto una volta con un nemico con un nemico no no con un amico di guida che ho molto deluso marco è per caso ah no no è davide trova alzati marco l'ho missato tutte le volte in cui poteo marco fai con l'ultimo colpo non ne vado dato ho deciso di morirci dato ti ricordo che io posso fare questo marco non ne sto prendendo marco non ho più la roba per l'avvelenamento come faccio quindi ti fai avvelenare? sei avvelenato? eh? benedizione divina benedizione divina non ho benedizione divina marco 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 grazie però adesso non sono più avvelenato sei un pezzo di merda andiamo ma sei adesso se ti avvelino io? no star andiamo a stax e l'air stax e l'air è finito basta 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 esatto zacheru ga ma questo è un salto zacheru ga zacheru ga vado ma vuoi davvero morire contro questa ciccione? marco prima era molto più facile zacheru io un combattimento vado questo che resta rotola non vuoi dirlo no cerchio non c'ho prisato aaaaaaah cosa c'è? marco mi ero baggato tutto non hai idea di cosa stavo vedendo non sei morto contro il teore della confidigio marco tu sei morto nella vita vero? non ero zacheru ga marco ripiazza il simbolo pezzo di merda andata che sei da tazzi ragazzi ragazzi mi dite poi come sono che ho chiesto? ma come sono volumi audio trovo? eh sì proprio questo tipo c'è capelli verdi eeeh marco devo farmi mano? non so che c'è un zaguardo eh? devo farmi mano? no sì no sì sì che fischio ma la cosa non ci dovevo uscire non esco perchè pensavo che sono deciso di uscire con gli amici e invece no intendevano riuscire a venerdì prossimo eeeh marco non mi fai un cazzo quindi stasera dovrei parlare eeeh quindi stasera potrei starci live ma lascio il posto al caromase che si fa eeeh forse h3 non si sa forse prendi l'oggetto marco marco eh dato senti del lag senti del lag pure su ts eh sì ma io non ti sento laggiare l'importante è questo aia manamani andiamo manamani zitto ma tu sei pazzo ma lascialo venire qui marco ma io sono fortissimo e dovresti saperlo guardalo 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 ma dai Ayrū 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 dai ayrū se devi farlo metti il command Ration 33 allora a replaced andiamo oh no Marco lo sapevo che lo faceva Scusate, ho ancora imparato a vendere le cose Marco Cercello, vieni Ragazzi, dovevo fare una caccata assurda Ouch Beh, io non mi ricordovo a fare stessa cosa Prendi questo Neanche porco Dadi Mi scordo, ne fa Hai più di uno Cazzo, mi sono distratto Coglione Ma allora? Non ho già pareato? Marco è fortissimo Marco No Ma ragazzi, prima non ero così forte Che cazzo gli è successo? Marco è fortissimo Che cazzo Ma stai fermo, stai Ma te ne vieni, riccione Dado curati per cortesemente Dado ne fa un'altra Ma io lo scherzo Ehi, fermo Scannato cincione Sì Ma Ollo ma si scherza Ma Ollo ma si scherza Ma figu, ma sei fermo Ciao Succede ogni live Dado se vai qua avanti Ci sta il Il falocchio E io ti raggiungo Va bene Marco Medaglione Soler Allora Se non mi perdo Potremmo riuscire a fare In maniera abbastanza veloce A sta zona Marco io ho acceso il falò E adesso io arrivo Marco io mi sono riposato al falò Marco sai cosa faccio adesso? Chiamo la pizzeria Mi muto o no Marco? No, non mutarti dai Voglio sentirti mentre ordini La tua bellissima Margherita Ma ora mangite la margherita Io se devo mangiare Mangio tipo unghie e salsiccia O qualcosa di ignorante E appunto Che schifo la margherita Allora Li chiamo Come vuoi passare Dado ti comandi? Ah intanto mentre aspettiamo Che Dado fai comandi Io spammo Cioè mentre aspettiamo Che Dado fai la pizzeria Io spammo i comandi Che sono Questo Questo Amici come la prendo la pizza? Che salsiccia Ehm hanno il telefono staccato Riproviamo Il comando auguri Il comando auguri Tra l'altro Non si Aggiuna da un po' Il comando ha fatto il complesso E Luca E non Il prossimo sono io Che sono lui Che manca Di Dado prendi Qualcosa di interessante Guarda che si è mutato Oh ma grazie Ollo Ma vai tranquillo Vai tranquillo Poi Che altro ci sta Ehm Ah ci sono il comando Più importante di tutti Mai scordarsi di questo Adesso In questo gioco Fa una cacare Ragazzi Vedete Io sto muovendo il contro Ah voi non potete vederlo Ma sto muovendo il cursore E un controller Una cosa che voglio E riproviamo fra un quarto d'ora Questi non rispondono Ok Dado io ti ho messo il simboletto Comunque grazie Ollo Ma scialla C'è la sciallissima In serio Lui si scherza qua Non ti preoccupare Allora Ehm Sta zona è una zona di merda Però quella dopo Mi piace abbastanza Che è il forte ferreo Io ragazzi devo scorreggiare Beh scorreggiare Marco io ti sento a scatti Comunque Beh l'importante è che io ti senta bene No No Mi stai bloccando Pari Dado occhio Diero 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 Bastardo Ah Dado occhio dietro Ma lo vedo abbastanza in difficoltà Allora ragazzi vi avviso Che questa è questa zona Mi riesco a beccare La strada giusta Da subito Io non mi fermo A A Non ti fermi Non mi metto a esplorare Le cose che non ho visto Perché la odio davamente tanto Dov'ha Dato addio Sì Marco torna indietro Marco torna indietro Eh sì concordo alla grande con Olu Questo gioco in esplosamente ha il gameplay Adesso fa abbastanza Abbastanza cagare I boss disegnati a far schifo Niente di particolare Usavano sempre pochi boss Poi non so come in realtà La Dlc perché non l'ho mai fatti Sarà l'unica cosa che farò in blind Qua Infatti non so neanche dove si trovano le chiavi Spero non si ne trovi in questo Zara Marco Giusta la sensibilità su Su TS Allora Tools Sempre colpa di Lieze Eh? Sempre colpa di Lieze Ah Eh lo so Intanto ti evoco Dercito e la neve è molto bello però Cosa? Dercito e la neve è molto bello però Dice Olu Ah sì? Eh poi vedrò Non avendo le mie fatte Allora spero di Rimanendo un esorpreso Come non ho neanche me fatti Diole cd di l'Artsol 3 Quindi Beh rifare anche quelli Stati con tutti i dati dire Eh no mi dir Eh La dirai i coglioni Andiamo Dato Andiamo Marco Oddio parliamo nel 3 Ti sei perso da sepere Delle due puntali pure Vabbè comunque li faccio Sempre competenza Io se mi sbaglio bisogna salire di qua Oh ehi Ma che cazzo Non me lo ricordavo Marco ti ha rimbalzato in testa Hai visto? Come su Sekiro Ehi ciao Commitare su Kherai tantissimo Marco ti avviso Perché ora sto Sto giocando bene Scusi No su Kherai nel senso Si crea Ah Cioè Adio su Kherai nel senso C'è chi male E appunto Che cazzo Cosa fanno Vieni qua Ah no qua una cosa che Oddio Eeeh Hai una fiamma della farfalla? Come hai fatto? Ne ho cin Ne ho sei Usane una Vai Eeeh Accendi Eeeh Non mi ricordo se porta una cazzino o meno Direi di no Andiamo Da cosa avrei fatto Marco? Abbiamo tolto Perché come tu ben sai No? Come dice la fisica E la chimica Se tu dei fuoco A un mulino Tutte le parti velenose Se ne vanno a fare in culo Cioè In realtà doveva succedere Ma non so perché non è successo Ragazzi Cosa è successo? Scusate Si è fermato il mulino Marco Oh no Lo rifaccio? Rifallo? Non penso che lo rifare Posso più rifare Ah le parti velenose nel boss Ok Marco mi hai fatto sprecare una farfalla Capirebbe Quante vuoi dire? Vai Occhio alla boss fight qui È difficilissimo Simpatico Aia Ragazzo Aiaiaiaiaia Dato sei fortissimo Ci penso che Dato Grazie Ma che cazzo sta facendo la telecamera Aiuto Ne troppo le Non so riguardare l'ultimo Marco mi sono avvenenazio Cosa faccio? Ma smetti da tirotolare Stai zitto Ti ho dato le cose Dato Cosa mi hai dato? Come hai fatto? Lei benedizia in linea Come hai fatto? Sono un'ampollina Un'ampollina Non c'è un'ampollina Marco Dato? Benedizia in linea Benedizia in linea Nooo Che è successo? Dato Non ti guarda Non so dove Non ho ben capito Dato Vediamo finire le mani Allora Ti raggiungo Lì dove stai Mi rifaccio mano Intanto Nooo ma che calma Pavorate Intanto riprovo a chiamare La pizzeria Allora Pizze Ragazzi come è morto Nooo ma che cazzo Che cazzo lo combatteremo Aspetta Non è preoccupato Non è che gli tolgo tanto Non rispondono Che bello Che bello Che bello Che bello Che bello Eh Eh Ho fatto la minchata Oh Quasi rotto un po' A causa di Mitir Dice Eh ma lo dicono in molti Daci La vita tua Che però Come Maria I piedi Della croce Tu sarai Servo Di ogni uomo Servo per amore Sacerdote Dell'umanità Uno è più giumana Dai Uiri E uiri Uiri E uiri 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 Mi ricordo che fosse uno Che quanti siete Questo non è uno Sono anche avvenenato Por favore Levatevi dal cazzo Che devo andare A riposarmi al falò Prima che ci crepi Porca puttana Come cercello Non voglio combattere Contro quello Fatemi andare A riposarmi al falò Marco Ci sei Marco sei fortissimo Mi sono riposato Allora Prima di Eserci Faccio Marco Così No 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 Porco Cosa hai fatto Mi attavo in casa Almeno 15 anni fa Anch'io Ma Sì Ma pure Ovviamente Anche io Però è sempre Una canzone veramente E' una canzone veramente power metal Qua ti anche te ho ascolti power Ma sì Marco Ma sì vabbè Un altro E dai Ma non lanciare i piccoli Sono appena accorto di avere la web sporca Quindi rimedio subito Guarda Faccio così Vai rimedio Ecco qua Ma ha vrenato come La puttana Bevi cretino Non ce la faccio Ce la faccio Dato Vi ho messo il simbolo Ma mi ha evocato Rock and roll Ah Ha un male cane qua il veleno Comunque Ah ma tanto Ah sì Ce la faccio E ora ti ha cacciato Dai Marco Io ti sto aspettando Sì E Stavo Facendo Piedi nella canzone Si è spaventato Perché Ah Ha sentito i piedi Si è spaventato Ma che senso Ha sentito i piedi Si è spaventato Ah non lo so Ha detto Nella canzone Ha sentito i piedi Si è spaventato Se vediamo Giuseppe la marca Se vediamo c'è sempre la marca Che ci siamo sempre A tranne oggi E ti ha messo il simbolo Fuori dal Marco Ho visto due simboli Uno sarà di Simo Che faccio Lo evoco No uno si chiama Pepiro Non lo evocherò E uno è Marchionne Marco tu non ci sei Marchionne è Simo L'ha appena messo fuori dal Simo non c'è più E qui c'è Pepiro Marco Ehi Non ci sei Ci sono Lasciate un po' Confermare Marco io non vedo Conferme però Marco dove sei Ah ah C'è solo Marco potevi metterlo Davanti al falocchio Se vuoi lo metto Davanti al falocchio Non lo togliere Ah ah E io mi spieghi La tua idea Magnato Magnifica E devi dire Ehi Perché non le mette Una stanza fuori Dove ci sono 73 nemici Perché mai i nemici Non mi vedono Che succede Simo Non ci sei Per favore Per favore Per favore cosa Aspetta Marco Aspettiamo Simo Dove cazzo va Dove cazzo va Sto qua Ma che cazzo sei E Simo non ci sei Che ti evoco Rompi il falocchio Io la prima volta Io la prima volta Io la prima volta Penso se potessero Rompere il falocchio E così Adesso faccio mettere paura A Davanti Non è partita Ah ok Bravo Marco Grazie Tu sei che sai Mettere paura Le persone Dove è Simo Non c'è Simo Simo dove sei Vabbè Simo Noi siamo saliti su Per vederlo Ehi da Dato per favore Siamo Siamo su Ti adesso Comunque Se vuoi unirti Siamo non non è così provo a chiamare la pizzeria buonasera, volevo ordinare due pizze da domicilio per favore allora una Napoli e una capricciosa rossa sì sì, anche una porzione di patatina ma no sì, sì, sì sì, lì per le otto e mezzo se è possibile ok, grazie mille dato cosa hai preso? cosa hai preso dato? cosa hai preso? ma qui hai preso la capricciosa rossa Dio delle città solo qualità nelle nostre live ragazzi, scusate, non ho chiamato i miei ah, perché anche te, ok sì, ma in un attimo allontanato dato, ma come hai fatto a prenderla se mi hai detto dove abiti? lo sapeva già dove abito? e che c***o il colo non funziona così nelle città grandi sai d'ora eeeh, Marco aero dovrebbe sapere come funziona la città piccola aaaaaaaaaaaaaaah eeeh, ma anche ridere la settecentesima volta ma non sono in merda Dato evoca anche me Oh ciao Simone me l'avevo scordato Marco mi aspetti Simo se non vedo tu Simo in altri 10 secondi non ti evoco Ma Simone hai almeno salutato la chat? È colpa, sono entrato muto non parlo Simo puoi fare un po' di shitofono o metti a scaricar qualcuno L'hai evocato? Eh no, non c'è Ah già è morto a poco cantando una canzone Siamo intorno al poco e cantiamo una canzone Ciao ciao Siamo intorno al poco e cantiamo una canzone E se credi più veloce noi andiamo non possiamo Sarà facile se credi più veloce noi andiamo non possiamo Sarà facile se credi più veloce noi andiamo non possiamo Troppo bello che spuntura Siamo intorno al poco e cantiamo una canzone Siamo intorno al poco e cantiamo una canzone E se credi più veloce noi andiamo non possiamo Sarà facile se credi più veloce noi andiamo non possiamo Sarà facile se credi più veloce noi andiamo non possiamo Sarà facile se credi più veloce noi andiamo non possiamo ora non siamo tornati a farlo ciao sono qualità di unicorni ragazzi ciao simo cosa stavate facendo? noi molto bello cacchio devo togliere la pietra di sanca di mi stare seguendo ragazzi può perdere pezzere non colpite per favore lo so fatto un po' ostacolo del posto la cittofonato ragazzi che emozione marco non è come mia nonna col botti panni e con me c'è mio fratello che gioca league of legend vieni qua secondo me ci perdiamo ma non siamo cambiato voce non è vero io ho sempre voto questa tocca lo tocca meglio e qui che cazzo tocchi te levati cosa devo toccare il muro con A, premi X, A quello che vuoi il muro marco è incredibile non do io eh c'è un falò eh si aspetta c'è uno da evocare si chiama sempre quel pipiro no è quello insieme a rock and roll dovresti poterlo fare anche qui marco sei veramente bravo poi invece c'è un bambino secondo me è una trappola ma non so perché la prima volta che riesco a fare due no è una trappola no è una trappola marco posso comprare un basso? dimmi quanto veloce cosa sa? Simone l'ho visto scattare veloci ma è certo l'aggo ti sembra ovvio l'aggo no non di qua via via di qua no non ne ho subito fare il boss si ci avviciniamo tutta la zona no facciamo prima il boss Marco no se facciamo il boss andiamo a fare questo coglione e se 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 e che cazzo mira il mio? almeno tu mi aiuti figurati figura cos'è questo? tu ti fidi di cercello marco tu che sei la loro cos'è sto buco? questo buco? allora devi sapere che da qua no? quando la persona che vive là dentro aveva dei suoi momenti in cui un po' intimi si deve segliersi sul suo trono ovviamente non è che poteva farlo sotto gli occhi indiscretti perché dovevi sapere che comunque il posto dove le persone sono più vulnerabili è dato a stare successo quindi da qui appunto il detto facile come picchiare uno che caca come piccata che esatto marco infaleazio ma ringrazio che simone che cazzo ho visto si ok che c'è una testa come guardian hate questa ma una donna guardian hate ah ok hanno riciclato un boss ho capito eh su guardian hate l'hanno riciclato in casa eh appunto questa è una presa è più facile scappare di quella della scimmia beh si non andare nel veleno non andare nel veleno la scimmia è davvero stronza dimmi se sono intelligente è sicura se va nel veleno? no secondo me si no anche perché se tu non avessi fatto se non avessi andato dopo quel fall al coso la boss sarebbe saluta quanta nel veleno simone ma ce li vedi quelli di from a fare del game design un pochino più no 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 ma in realtà si curava eh gli saliva un po' la vita credo insomma io ho perso quattro decimila anni quattro decimila anni quattro decimila anni ecco ora vedi hollo perché lui è recito cun 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 he come special guest se vuoi vedere chi sono i corgi in giugno come tizio dell'umanità se scorre un pochino in giugno dato che lui ci regala l'umanità ci facciamo un onore di poter giocare con noi possiamo capire che comunque è un grande onore per qualcuno poter giocare con i corgi marco c'è un punto su una forte ferro tant'è che appunto dopo il fenomeno degli unicorgi facci caso quanto è durato il best off il blog della cartonismo del musicone 11 minuti perché? perché sanno che ci sono gli unicorgi sono 309 volte mille infatti il nostro infatti il nostro dura un'ora e 10 marco dove devo andare? sono due scarpe non mi ricordo provare entrambe e vedere dove c'è un po' allora no qui è chiuso mi ha invaso Sherrall la spagacina ciao signora Cercello marco mutati marco mutati che siamo in live marco questo qui è un coglione però sono morto come sei morto? sono morto vabbè almeno torno qua marco mutati quando parli con tua madre ma no ma tu urla ho laggato no no per chi lo pensi? piazza il simbolo piazza la porta ma fermo che è qui ha gli nemici simone si questo è coglione ma hanno fatto rumore assurdo ma io non lo aiuto che nemici uno è arrivato cercello cercello che streamer speciale ma il tuo mini padron proprio un bambino sociale ne siamo attorno a fuoco e cantiamo una canzone ne siamo attorno a fuoco e cantiamo una canzone ne siamo attorno a fuoco e cantiamo una canzone ne siamo attorno a fuoco e cantiamo una canzone marco 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 quale quale falò? mi piace come falò problemi di catarro marco quale dimmi nomi di falò vico terrestre inferiore centrale superiore 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 no 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 centrale 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 problemi di catarro la tauromachia non ci sa artion che ci penso artion fatti cazzitoi che c'è? Leonardo non Simone no no proprio Simone mi sta prendendo da cazzotti sì però i miei cazzotti dovrebbero farti prendere fuoco marco io quest'ansia non la conosco non la conosco voglio andare a uccidere leonardo c'è non usare marco io ho piazzato il simbolo però è leonardo kovacic marco io ho piazzato il simbolo leon dado perché non ti permettere? non vorresti essere mio fratello schifo marco marco dove va? no 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 sai cos'è che non abbiamo fatto di importante eh dimmi eh abbiamo chiuso la live mi raccomando amici ci vediamo no dobbiamo andare a parlare con ma questo è coglione Simone kovacic ti voglio tutti i primissimi furono in chat marco dove sei? chissà cos'è comico marco perché vai senza dena? simo sei morto perché sei morto? perché si è abrenato il coglione marco perché ti butti di cazzo? ma avevo molta vita in realtà prima che mi avvelnassi che cazzo ha fatto? credo che mi abbiano colpito delle frecce marco curi entrambi deciditi ma ma sto sbagliando basta questo non mi ha evocato per me no non devo evocarlo dai marco hai evocato? sì user in your channel time out crashato ma questo è un oh ma chi è questo? marco io non vedo nessuno marco hai le emissioni passano è dato non riesco a passare ci sta lui ma non c'è nessuno tu sei per le scale marco no no tu eri sulla scala ok adesso si siamo in un'idea in un'idea di essere 37 meca no ma si è una cosa si ah da dovevo cercare di capire come cazzo si può andare di là perché io non lo vedo marco perché non ti fai un ballino di cazzarci tu? sì? eh? marco come hai fatto a non prendere danno? perché non mi ha preso da me ti ha preso tantissimo aaaaaaah andato via aspetta meglio di qua ti curo ok ti curo vieni ah devi stare molto attento a non prendere le cose taglienti aaaaaaah fermo? forse io? no! occhio ok non si vuole cosa? ma vaffanculo ma vaffanculo aspettami cazzo capirei che ho da te la cosa vabbè ragazzi non capisco amici questa live è finita mi raccomando va bene marco marco allora Simo dice mi è morta di nuovo la connessione ah si? ma ma raga ha detto perché mica me ne ero accorto guarda Simo non si era capito tranquillo ma ti metti il simbolo che qua è difficile no! oh no ma non dove cazzo cecetto cecetto povero Simo però si si tanto ormai ci ho abituato ho anche mandato una diciamo una lettera di sdegno alla compagnia telefonica un po' diciamo ortodossa ecco non la ricordo con termini poco adatti ehm siete degli screanzati aulico poco adatti al linguaggio aulico e quindi ehm la compagnia telefonica ha deciso di stampare quella mail e di appendere nel loro ufficio che non sto scherzando era perfetto un attimo che hai dato se riesco di tornare indietro su si guarda Marco c'ho tutto il giorno qua e quindi niente adesso negli uffici della compagnia telefonica di Simo hanno la sua mail appesa come monito non c'è non c'è la storia della mail si oh no no non c'è la raccontata ma sei da sei? ma sei? eh si Marco sono da sei no 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 per favore non voglio morirci so io cosa fare amici vi leggo la lettera dei carabinieri che come vedete è scritta in sans si invita mio fratello e io abitanti in Castiglio in Fiorentino via a presentarsi verso gli uffici del comando di stazione carabinieri per indagini di PG cos'è il PG Marco? dato, dato, dato non è il momento, dato orari d'ufficio no, non fatelo vabbè, vabbè vabbè, vabbè, vabbè vabbè, vabbè vabbè, vabbè allora sì ehm c'era uno dei due ah, devo farmi una mano a me eh sì c'è un mio singolo Marco, ho già piazzato bravissimo piripiri piri cercello cercello ma che cazzo qua? ma che esce che fai? ma che ne so, attacca il muro il personaggio eh eh Marco non è da tu nooo chiamete ok, devo fare un giro molto lungo e sarei molto attento ma qua dovrebbe scendere uno devo fare un giro lungo mamma mia Marco vediamo di fare i bravi ok ok dato hai frecce? hai un arco con le frecce? non credo ho una palestra vai prendila veloce prendila veloce eh la trovassi palestra spara qua, spara ai vasi non ho frecce come si equipaggiano le frecce semmai non sto facendo io ahhh deve non morirci lo faccio vedere perci sbagliare nooo non si rompe devo usare quelli di ferro nooo dai equipaggiarli in basso a destra è buono sapersi ciao Michiro ciao Michiro grazie per essere passato marco marco ho la gente che mi chiama adesso contro rompe coglioni no no e no ragazzi stai iniziando a regiare dai marco ma perchè accendi la torcia no no allora ragazzi sta regiando che bello che emozioni no l'ho già messo se qualcuno mi deve scrivi scrivi ma se gli devo scrivi che coglioni marco intanto evoca me cecetto cecetto e togli sta cazzo le torcia imbecille di merda marco calmati non ricominciare ma intanto aggiustiamoci la palestra ci ho buttato 40.000 anime ragazzi 40.000 perchè perchè le frecce da poco non rompono un cazzo di vaso con il suo ultra veloce l'intervento giocano ciao silo marco un attimo ai copaggiare le frecce ah dai l'ho equipaggiate io su come ho fatto l'hai fatto l'hai rotto credo abbia capito il motivo per cui gli ho inviato l'e-mail ahhh cos'erano ste ore dato non bere eh vabbè ho solo due fiasketter che non mi sono mai ancora riposato bravissimo grazie vabbè abbiamo chiesto che non andiamo a fare il giro lungo e vabbè ma allora a sto punto andiamo a essere finita per già qui e lo due anni mi le ho persa da eeeh adesso non lo fa io l'ho fatto per una pialeana a sto punto la l'acce si è buttando ma non mi va ributtando le soli riesci a curarmi eeeh 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 eehh eeeh che si sa Ok. Niente, non funziona l'acqua. Ok scendo No No Dove sei andata Ah qua Molto bene Cioè due secondi di strada Sì l'ho capito Siamo perso 40.000 anni Eh pure io ho perso un bel po' di roba Ok Ok Vabbè Lo faremo off live A sto puzzio Non mi togliere la cosa Vabbè Parla Basta parlarci poi per farlo Sì Ancendo la luce così almeno mi vedono Uh mica male Ok Dove siete in questo momento Io che cazzo lo so Ok Non so va Marco tu hai già fatto il boss che avete fatto prima Quello condato Eh guarda che non c'è più con Lorenzo oggi Se dobbiamo uscire tra di noi va bene Però non ora E quindi dobbiamo evocare Simo? Eh sono ancora al faloio Eh butta il simbolo Ah siete lì? Eh dai l'ho perso 40.000 anni E più che altro non per tanto per me Quanto per le due umanità Ah Vai piace il simbolo Cos'andiamo a fare Roirimla Come si chiama la tipa Mi stanno pecchiando Ah ma io ho ancora notato fuoco al falo Ah non si E l'hai fatto No 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 Lo facciamo da me? Vai a fare il culo Simona Dai Marco sto scherzando Sta cazzo di gravità Sto sminchiata in stato di merda Ah non ci sono niente Dai Però non ti dà andare solamente dal faloio Ha ripiazzato il Oh no Mi ho buttato il suo Ha ripiazzato il simbolo qua Ho già messo Sto pure soprattutto per un ucchio Questo me li riprendono Ragazzi è successo una cosa un po' brutta Aio Grazie Poi sto parlando Ma che imbecillo Scusami Marco quanto mani t'hai? Quanto? Dado Una Una Boh appena ti avevo a casa Le lascio qui fuori Ok Lascia Ormai Simona è l'uomo De Vabbè però Vi sta arrivando lo stesso Tremo poi Ma io l'ho acceso Ma io l'ho acceso Ah si l'ho acceso Ah si l'ho acceso Andiamo Nelle lunghe acese Grazie 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 Che volo Dado vi ricordi quando si è fatto una live su Staxel mutato per mezz'ora? Si E nessuno mi ha detto niente Si Ho quella spada che volava? Marco Dado io non so cosa devo fare Non distruggere i vasi Ho fatto un errore un secondo Ragazzi? Eh? Eh se magari veniste poi No Marco Parti il cazzo tuoi Dove sei? Marco mi stavo curando io Tu dove eri? Ma non ne erano già mani Dai A morire a chiedervi una mano Così dovete Per non sprecare altre umanità Marco io ero A curarmi Mi faccio mano Ma che cazzo ti fai umanità? Così Faccio fuori sto qua Mi sta sulle palle Mi fissa No che error Guarda attivi anche gli altri Infatti ora basta andare a fare l'occhio Simo Raccontaci un po' Com'è la tua connessione oggi? Eh Non so come descriverla Ah Credo che l'email vada Eh al farò Marco Bravissimo Simone complimenti Cosa vuoi non sono morto Eh chiede che non sia morto Però gli ti caccio da cosa si vede Metti il simbolo qua No no Tu non so Torniamo su Cosa ci vuole a tornare Senza bestemmia Si vuole Marco lo vedi il simbolo Aspetta Intendi di scrivere la connessione senza bestemmia Pirifipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Il tititi Il tititi Simono deve Il tuo turbone No volevo dire il tuo simbolo Che hai detto il tuo Non sa perché pensavo Cosa sarebbe L'ho messo è sulle scale Non quelle fuori ovviamente Lado non farlo Lado non venire qua come se non avessi fatto uno Lo so che sarebbe tipo il cazzo Ma non ho rimasto tutto Marco io non ho fatto niente Ora lo faccio Marco dove sei? Dai dovrò almeno leva Disattivi la trappola E chi la vive che la vede la trappola Che fa? Maremma Allora Marco Cosa dobbiamo fare? Ah Devi dare di muovere Marco Ci è mancato poco Allora saliamo su Vieni Simo saliamo su Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Prego. Se mi rompi la cassa... Fatemi aprire la cassa per te se mi... Bravissimo. Dado cos'era? Mi hai rotto il cazzo! MARCO! Ma che è sto schifo? Non ci stavano? Ma che è schifo questo? Ma era un coso? Andiamo! Ciao Ayrou! Ciao Ayrou! Ciao Ayrou! Scusa. Ciao Ayrou, buonanotte! Marchionne? Sì, non entrava. Dai, che è qua? Ma vero che la posso attaccare da lontano? Bravissimo. Bravissimo, sì. Non faccio niente. Coda! Zakeruga! 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 La coda! Io bevo. L'ho fatto io! Ma vero. Marco, l'ho visto. Signore che volavo? Marco, vieni qua! Stardo! No! Coda fratello orso, sì. Coda fratello orso? Coda fratello orso. Che ha detto coda? Ah, l'ho detto coda, ok. Tu hai detto coda. Sì. Amici! Dado le mie orecchie. Proletari di tutto il mondo! Sai che vuoi interrompere la live, l'ho dato? Marco, sono le sette. Ah, ok. In tre. Stavo le smut non me la trovo. No, più che altro penso la faccia si faccia abbastanza lunga se vogliamo fare le cose simmetriche. Ok. No, ma che comunque per ne effetti lungo forte ferre. Io so che io. Dado sei proprio un genio. Amici! È un attimo, come nello alcolò, cosa nemmi giù? Ah, forse ho capito potente vivi con una scala che saliva da una crescente. Marco, Marco mi dice quando che posso tirare amici. Ok. Amici! No. Come no? No. No. Eh, Simo, però. Un po' di autocontrollo anche tu, eh. Dado. Eh, no. Con la bellissima visuale di forte ferro, Dado li dirà amici. Amici! E basta. Ok. Grazie mille per essere passati. Vi ricordiamo che dalle 21.23 ci sarà la nostra live classica serale. Non si sa ancora cosa faremo, non ci sa ancora che si sarà. E... E... Cosa? Ci sarà una notturna mia. Esatto. Per sapere comunque sempre quando è che saremo in live, perché saremo in live e con cosa saremo in live, ci sono i comandi telegram e i comandi Instagram. Perché noi siamo i social, perché siamo ciofani. E... E... Caso altro dirvi se non neanche di iscrivervi al nostro canale YouTube. venirci a trovare sempre in live, perché si spera che facciamo ridere, perché soprattutto Dado è bello. E... Che altro dire? Grazie. Grazie ancora per essere passati. Grazie a Dallo per essere ripassato a trovarci. E... Alla prossima. E mi raccomando, se volete comprare giochi a basso prezzo, darci la mano. Referral! Ecco cosa mancava. Mancava il link di Referral. Ciao Allu! Ciao Amici! L'ho fatto io Marco! Ciao! Ah non interrompo!